Sono stati identificati e denunciati i responsabili dei disordini avvenuti sabato 18 giugno durante il corteo storico della giostra del Saracino, 10 in tutto le persone denunciate. Durante i momenti prima delle entrate in piazza si erano verificati alcuni scontri tra i quartieri di Porta Sant'Andrea e Porta Crucifera, sfociati anche in veri e propri atti di aggressione fisica. Nel corso dei tafferui erano stati aggrediti anche un carabiniere ed un funzionario di polizia, quest'ultimo aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni, oltre alla rottura degli occhiali. In seguito alle indagini e dall'esame delle immagini televisive sono state individuate 10 persone, 7 denunciate per rissa mentre le altre 3 per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale ai danni rispettivamente del funzionario responsabile di un militare dei carabinieri. L'attività investigativa prosegue ora per identificare i responsabili di altri episodi che si sono registrati nei giorni successivi alla giostra del Saracino. E sulla vicenda è intervenuto anche Franco Scortecci, presidente dell'istituzione Giostra, che ribadisce ancora una volta la sua ferma condanna a tutti quegli atti di violenza che screditano l'immagine della giostra del Saracino e che recano danni a cose e persone. Mi preme lanciare un messaggio che arrivi forte e chiaro, ha detto Scortecci. Coloro che nulla hanno a che fare con il rispetto e l'amore delle tradizioni saranno perseguiti nelle sedi opportune. Colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine che si sono adoperate nel riconoscimento di chi ha messo in pericolo il normale svolgimento della festa. Certo che riusciranno ad identificare anche i responsabili degli atti vergognosi che hanno macchiato i giorni successivi alla giostra. La nostra speranza, conclude Scortecci in questo momento, è che la calma sia ristabilita per affrontare le prossime due edizioni in un clima di gioia e sana passione, quella che realmente fa bene alla città.